Il treno storico straordinario 2428 di Fondazione Ferrovie dello Stato Italiano, delle ore 9.58 per Manziana Canale Monterano, è in partenza dal binario 6. Sono ammessi passeggeri con biglietto di tariffa speciale. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Alla. 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 a me would you really grab me 2 stroke uno 2 stroke 2 stroke 1 stroke 2 stroke 2 stroke If you are any, no, no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.